la serie numero ventuno i blocchi di partenza in corsia uno Alessia Tesei rinascita Tim Romagna due Chiara Negri votatori Trentini corsia tre Laura Perroni Idlos alla quattro Anna Bullo Adrian Uoto corsia cinque Angelica Zarantonello Città Sport Vicenza corsia sei Martina Miculcicci il libero la sette Lucrezia Barbi la rinante Svenezia corsia otto Lutulimia Zanetti un previso